diario di due imprenditori digitali. Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche illimitate. Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale. In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare. Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati. Aggiornato ogni due settimane di venerdì. Ciao Daniele! Ciao Marco, ben ritrovato, ben ritrovati in questa puntata numero 137. Dove sei, come stai? Eccoci qua, registriamo da Milano. Purtroppo ho finito le mie lunghe vacanze e riparte per questa versione autunnale di Milano. È cominciato a piovere, da ieri per fortuna le temperature sono un po' scese. Daniele, tornando a Milano, ritornano le brutte abitudini. Sì, quattro giorni che non vado a correre. Invece ero abituato a correre quattro giorni alla settimana, ce n'è sempre una. È andare a visitare i clienti, andare in ufficio e non lo so, sembra che la vita si complichi a Milano. È bello vivere in vacanza, eh? Cambiare aria. Tanto poi lavori anche dalla Toscana, quindi che differenza c'è? Eh, un disastro, un disastro. Il problema è che ci si abitua subito alla vita da imbruttito. Daniele, vedo che già la mia connessione da problemi. Sì, un po' rallentato in alcuni passaggi. Marco, io sono ad Amsterdam e ti dico, collegandomi alla corsa, lo sabato scorso ho fatto la mia prima 50 chilometri ufficiale, la mia prima ultra, mia prima vera corsa che va oltre la maratona. Qui in Olanda c'è questa gara storica in un paesino che si chiama Winscotten, dove fanno sia 50 chilometri che 100 chilometri, e è un, cioè sembrava veramente la rat race, perché è un percorso a 10 chilometri assolutamente piatto, che si ripete 5 volte si fa le 50, 10 volte si fa le 100. Settimana scorsa era la settimana più calda, cioè il settembre più caldo che sia mai stato visto da queste parti, con temperature fino a 30 gradi, però è stato divertente perché comunque in questo posto qui Winscotten è un po' la festa del paese quando c'è questa manifestazione, no? Cioè immagino che non fanno un cavolo tutto l'anno, poi quel giorno in cui c'è la corsa si scaterano. Quindi sul percorso c'erano tutte le famiglie nei giardini con le sedie, con gazebo, musica sparata per strada, insomma c'era una bella atmosfera che teneva, che non ha reso la cosa noiosa, e poi visto la temperatura c'erano tutti questi bambini che oltre ai punti dove c'erano le stazioni ufficiali, dove ti danno l'acqua, le stazioni di fornimento ufficiali, c'erano tutti questi bambini per strada che davano bicchieri d'acqua, spugne bagnate, e poi a un certo punto si sono messi tutti fuori con la canna dell'acqua, quindi quando arrivavi ti chiedevano doccia, doccia, sì sì vai, butta, butta, e ti spruzzavano per raffreddare un po'. Perché partiti alle 9 che abbastanza tardi, in una giornata calda, siamo finiti, insomma, mezzogiorno, 1-2 sotto il sole, è molto inusuale qui. Però bello, 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 e ci tornerò, e ti dico, stranamente, l'ultimo giro, gli ultimi 10 km l'ho scoppiato completamente, però sono sorpreso che, insomma, giorni dopo a livello di muscoli ho recuperato bene, insomma, non ho avuto grossi problemi. Comunque sei scoppiato per questioni mentali, perché sei abituato a arrivare a fare la maratona, quindi quando arrivi a 42, poi dopo dici, ah, ce la faccio più, perché sai che fino a 42 ce la fai, poi dopo, sì, sempre è successo così anche a me. Sì sì, per me non mi spingo più oltre, io mi fermo alla mezza, ne faccio mezza, so ok, lì ci arrivo. Non ho ancora intenzione di andare oltre. Eh, io c'ho sto sogno... Tu devi farne 100. Io vorrei fare passatore, passatore fine maggio 2024. Sì, però sabato mi chiedevo, ok, faccio questa fatica a farne 50, gli altri 50 chi li fa? Ma vedremo, vedremo. Bene, 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 bene. Daniele, allora, ringraziamo lo sponsor Active Power, il mitico distributore italiano di Active Campaign, software di mail automation che ti permette di mandare l'email giusto al momento giusto, alla persona giusta, grazie alle automazioni super potenti che ti permette di creare. Tool che utilizziamo nelle nostre attività, sia io che Marco, da tanto tempo, da tanti anni. E cosa fa Active Power? Fa... distribuisce in Italia, quindi fatturazione in Italia, supporto in Italia, in italiano, via email, telefono, chat e gruppo Facebook. Per i nostri digi imprenditori c'è un 10% di sconto sul primo anno con il coupon digi imprenditori e se già utilizzate Active Power potete comunque passare a Active... Ops, se già utilizzate Active Campaign, volete passare a Active Power usufruendo comunque di questo sconto. Benissimo. Ringraziamo anche i digi imprenditori che sono nella nostra community. Abbiamo creato questo gruppo Telegram dove ci si conosce, ci si scambia informazioni. In questa settimana si è parlato di banche, fintech e un po' di cose che non ho capito. No, c'era qualcuno che... Parla di OCR. Sì, sì, sì. Le tool, le tool. Bene. Qui si confronta e ci si scambia. Il link al gruppo è nella nota del episodio. Vai Marco, vedo che sei carico. Visto che i tuoi obiettivi di corsa sempre li raggiungi, i tuoi obiettivi da digi imprenditore come sono andati? Un po' meno bene. Allora, avevo... mi ero messo ben quattro obiettivi. L'ultima puntata. Il primo era di pubblicare la puntata del podcast Wordpress d'Italiana. Quello è stato fatto. È un'intervista a Luisa Ravelli che è andata al World Camp Europe ad Atene come volontaria. Quindi ha partecipato al team dei volontari e ci racconta com'è stata, anche perché l'anno prossimo il World Camp Europe sarà a Torino. Quindi c'era un bel gruppetto degli italiani che è andato ad Atene per anche capire poi come si organizza, imparare, come si organizza, fare esperienza su come si organizza un World Camp Europe per prepararsi all'anno prossimo. Quindi puntata pubblicata, link nelle note all'episodio perché è interessato a sentire anche questo podcast. Il secondo punto era capire come gestire l'inventario di Caffè Analog. E qui ci ho sbattuto la testa parecchio e sì, ho capito come va gestito, come andrebbe gestito. Poi ne parliamo. Terzo obiettivo è registrare due video su plugin per WooCommerce. Questo ho fallito clamorosamente. Ahimè, mi piace, ma non ce l'ho fatta. E il quarto obiettivo era creare un processo per le vendite wholesale di Caffè Analog, quindi vendite all'ingrosso a altri negozi che comprano dei prodotti che noi vendiamo, che abbiamo l'esclusiva. E qui sì, il processo è definito, siamo pronti per partire. Anche questo se ne parla più in là nella puntata. Quindi facendo un calcolo 75%. Eh, bravo. Quanti obiettivi. Non male. Daniele, io ho due obiettivi. Il primo era fare il catalogo cartaccio di PVClick. Pensavo di arrivare a editarlo per mandarlo in stampa. In realtà, Daniele, eccolo qua. Il libro è arrivato, è pronto. Le bozze ne ho stampate una cinquantina. Così per vedere come vanno, è pronto, è pronto. Siamo operativi, ce la possiamo fare. Obiettivo raggiunto. Secondo obiettivo era quello di fare un video, registrare un video in lingua italiana, quindi con il nuovo tool che avevo detto, l'intelligenza artificiale, Descript. Daniele, l'ho fatto anche questo. Tu sai che io mi sono dato tanti obiettivi, fare i video, e sempre li fallivo miseramente. Stavolta l'ho fatto, sono carico, ma ne parliamo nel dettaglio, nel corso della puntata. Quindi, grande, al 100%. Sono contento. Un centello. Bravo Marco, sei tornato a Milano, ricaricato, focus sugli obiettivi. No, in realtà, come al solito, sono arrivato lungo. Adesso, ieri e l'altro ieri, ero via per lavoro. Niente, però, il giorno prima, era l'unico giorno, ho detto, no, non posso, mi do mettere via a farlo. In realtà, Daniele, è stato più facile del previsto. Non è più facile, è stato più da flusso, diciamo. Cioè, ti metti lì, lo fai, metti, guardi il tool, guardi che bello, che figo, eh? E quindi, alla fine, sono riuscito a editarlo. Sono, il video, la bozza, abbastanza ben fatto, con intro, outro, tutto. L'ho fatto, l'ho fatto utilizzando questo tool che avevo parlato l'altra volta, che si chiama Descript, che mi piace tantissimo, Daniele, perché probabilmente ragiona come ragiono io questo tool rispetto ad altri tool che avevo provato a usare in passato. E quindi lui ragiona sullo scritto, cioè, ragiona sulle parole, non ragiona sulla timeline. E quindi, bello. Quando tu editi il video, automaticamente ti viene la trascrizione. Trascrizione che ho visto praticamente perfetta, tranne alcune parole cinesi, che non le ha tradotte bene. Ma lì, ci sta. Video in italiano, eh? Quindi, con traduzione perfetta. e tu puoi, benissimo, quello che mi piace è che lui lavora per scene. Quindi tu, nella tua trascrizione, quando tu gli metti uno slash, e lui ti divide la scena. Ok? Quindi tu ti dividi per scene, e poi lavori nell'editing sulle scene. Quindi hai, ho questa scena qua, voglio metterci, non lo so, un video di sottofondo, perché parlo di crescita personale, no, di corsa, e metto un video di uno che corre. Poi tu gli metti layout, vai a prendere i video, ti dà, c'è tutta una gallery di video, da cui tu puoi prendere, gli metti, non so, corsa, correre, quello che vuoi, vedi il video, e lui te lo carica direttamente, tagliato, perfetto, sulle scene. Non devi stare a regolartelo, perché lui ragiona proprio sulla voce. e quindi te lo fa sulla voce. E lo stesso, non so, avevo delle parole chiave su cui volevo aggiungere, non so, la parola per enfatizzarla, scritta sul video. Allora ho messo la scena solo con la parola, aggiungi testo, e lui automaticamente ti centra tutto. Cioè non devi stare lì, poi io almeno, adesso io non sono un professional editor di video, quindi io non ero, non avevo sempre problemi, per perdere un sacco di tempo a sincronizzare. Poi, insomma, con la paranoia che ho fatto video animazioni per una vita, la sincronizzazione dell'audio con quello che appare a video è fondamentale. Quindi sono estremamente contento dell'utilizzo di questo tool. Ho scoperto che l'overdub che ti modifica le parole, in realtà funziona solo con l'inglese, al momento... Overdub? Ah, overdub, cioè... Cambiando una parola... Sì, sì, tu hai detto Mela, no, cavolo, dovevo dire Pera, allora tu gli scrivevi... Dove c'era Mela scrivevi Pera e lui automaticamente con la tua voce ti diceva Pera. Però non l'ho provato, per dire la verità. L'ho solo letto, non ho avuto bisogno. Però, per esempio, quando registravo il video, se mi impappinavo a dire una frase, io ridicevo la frase tranquillamente, senza dover... Prima facevo dei gesti strani in modo che nel video vedevo quando dovevo tagliare e non tagliare. In realtà, nella trascrizione mi ricompare la stessa frase. Allora, se l'ho detta due volte, è chiaro che la seconda è quella vincente, no? Perché la prima non mi piaceva. Allora, io bastava che sul testo cancellavo la prima frase e lui automaticamente mi tagliava la scena. Velocissimo. Se poi, come capita a noi, veri non professional dei video, magari metti qualche pausa di troppo nel parlare, il video lo vuoi un po' accelerare, le vedi immediatamente come lui trascrive il tutto. Perché tu hai la parte dell'onda audio più sopra le parole e se c'è una pausa lui ti mette dei puntini e gli dici guarda qui c'è una pausa di troppo. C'è proprio te l'evidenzia. Dopodiché, poi magari è una pausa perché passi, diciamo, da un capitolo all'altro quindi è giusto che ci sia una pausa. E in automatico tu trascini, fai, lui taglia il video. Bellissimo, bellissimo. Sono molto, molto, molto contento. Poi c'è un fighissimo i sottotitoli che lui mette. Adesso io non li ho fatti nel video perché non mi interessava mettere i sottotitoli, però anche come gestisce i sottotitoli mi piace veramente tanto. Sono molto contento. Sono quasi certo passerò alla versione pro del tool per diventare un video editor finalmente. Grande. E vedo che comunque anche la versione pro dai 12 dollari al mese è accettabile. Mi sembra un prezzo onesto. Certo, si può fare. Perché sulla free hai un limite di un'ora al mese di trascriccio. Sì, però c'è un'altra limitazione che lì non ti dicono è che quando tu esporti il video poi ti mette il watermark. Perché anch'io ho detto c'ho un'ora al mese di free i miei video sono brevi due, tre, cinque minuti insomma. Hai voglia. Ne faccio quanti ne voglio. In realtà ti fa esportare un solo video senza watermark e poi tutti gli altri ti mette il watermark. Ma ci sta, eh. molto interessante poi vedo che ogni tre, quattro giorni rilasciano versioni nuove del software quindi ci stanno lavorando molto. C'è una community ci sono dei tutorial bellissimi fatti veramente bene per cui ti compare la voce quindi vedi chi ti spiega il tutto ti apre già un esempio di video da editare per cui lì ti insegna e poi al tempo stesso fare le prove per cui ti dice una cosa il video si mette in pausa tu puoi fare le prove e poi gli schiacci play vai avanti insomma bello 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 mi piace molto script.com sarà anche nel nostro episodio bene Marco io ti parlo della storia dell'inventario della gestione dell'inventario perché è un insomma abbiamo capito che è un argomento abbastanza importante per per un e-commerce io ero abituato che i negozi mi ricordo nella cartoleria di mia zia le persone che conosco che hanno negozi fisici che facevano l'inventario a fine anno però l'inventario a fine anno è una cosa che serve per per la dichiarazione fare un bilancio più per la dichiarazione delle tasse che altro per sapere appunto quanto è il valore del tuo inventario però se si vuol fare un controllo di gestione o si si vuole avere sempre l'idea di come stanno dando le cose è importante sapere in ogni momento quanto quanto si ha quanto è il valore della merce che si ha per poter anche calcolare mese su mese o in qualunque momento calcolare e sapere quanto è quanto è il profitto del venduto verso quello che è stato pagato la roba che è stata che è stata venduta quindi il commercialista ce l'ha ce l'ha spiegata facile dice ok voi per ogni prodotto visto che gestite l'inventario nel vostro nel vostro software per noi è WooCommerce voi avete il prezzo di vendita lì ci dovete anche cacciare dentro il prezzo di acquisto che gestito in modo informatico poi avrete il valore sapete sempre il valore sapete sempre su ogni ordine quanto guadagno c'è e quindi il passo successivo è ok cosa definisce il prezzo di acquisto di un prodotto perché se noi prendiamo che ne so una penna la paghiamo un euro la vendiamo a tre quindi è un euro il prezzo d'acquisto e no attenzione perché noi comunque quando compriamo 50 penne paghiamo un euro la penna poi magari ci sono 10-20 euro di spese di spedizione poi essendo prodotti che arrivano fuori dall'Europa ci sono spese di importazione della dogana quindi tutto questo contribuisce a il calcolo del prezzo di acquisto a che porta la seconda domanda e va bene però quando tu rimani con 5 penne che hai pagato 1.3 euro facendo questo calcolo poi ne hai 3 a magazzino ne compri ne ordini altre 50 le altre 50 facendo lo stesso calcolo non è più 1.3 perché nel frattempo magari hai comprato dal Giappone lo yen è fluttuato le tasse di importazione il costo di spedizione è cambiato quindi ti trovi magari con le nuove 50 penne che ti arrivano invece di 1.3 sono 1.5 e la risposta del commercialista impassibile beh certo è chiaro tu devi calcolare che hai 3 penne pagate 1.3 e le altre 1.5 devi fare una media pesata e così tu hai il valore giusto questa cosa che cioè a livello a parole chiare e lineare in pratica è una rottura di palle clamorosa nel senso che è un lavoro è un lavoro è tanto lavoro extra adesso io mi sono divertito a selezionare plugin e tool per poterlo fare che i tool per poterlo fare consistono in google sheet con un po' di formulette per cui ogni ordine che riceviamo dovrò inserire in questo google sheet i prodotti il prezzo da fattura quanto abbiamo pagato l'espesizione quanto abbiamo pagato la dogana la valuta eccetera e con un po' di formulette insomma niente di troppo complesso riesco a calcolare il costo per 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 pezzo il costo di acquisto e questo costo di acquisto è da aggiungere all'interno del prodotto in WooCommerce e qui ho trovato un plugin che si chiama cost of goods for WooCommerce di WP Factory e che già nella versione gratuita ti permette di aggiungere questo costo e di calcolare poi il profitto per ordine però ecco quindi fare questa cosa e poi negli ordini successivi dovremmo rifare la stessa cosa e questo plugin la cosa carina che fa rispetto altri che ho visto ti permette di fare il restock quindi fare sul prodotto penna tu fai add to stock aggiungi 50 pezzi a 1,5 euro e in automatico fa la media la media pesata di cui parlava il commercialista quindi i pezzi li abbiamo li abbiamo definiti la procedura per farlo l'abbiamo definita abbiamo deciso che adesso ci proviamo insomma partiamo con questa cosa proviamo a gestire bene i prezzi di magazzino e vediamo un po' quanto lavoro ci chiede perché grosso dubbio Marco qui è ok ho capito che la teoria è così ho capito che noi abbiamo più visibilità e che e che le cose andrebbero fatte così se vuoi avere controllo di gestione tutto sto controllo punto di domanda è ok ci serve veramente cioè il nostro shop è piccolo cioè ha più senso investire ore a fare questa cosa qua investire ore a vendere di più che come dicono gli americani sales cure everything le vendite curano tutto quindi forse sarebbe meglio concentrarsi nel far crescere le vendite o invece di mettere ore su questa su questa gestione anale dell'inventario questo è un po' il dubbio però in fondo abbiamo una quindicina di ordini al mese che ci arrivano ci vogliamo provare vediamo quanto quanto è doloroso prima di tirare dalle conclusioni una bella una bella domanda cioè alla fine è sempre un trade off tra quanto preciso vuoi essere e quanto tempo ci vuoi ci vuoi investire quindi il commercialista ti dice di usare il prezzo medio cioè se tu hai un prezzo vecchio poi acquisti il nuovo in prezzo nuovo devi fare la media tra quello che ti è rimasto vecchio e quello che hai nuovo in casa sì sì una media non ti fa vendere il vecchio il prezzo vecchio il nuovo il prezzo nuovo allora esatto come ci hai detto ci sono tre approcci a questa roba FIFO esatto c'è FIFO first in first out quindi vendi i primi pezzi li vendi al prezzo vecchio e poi quello nuovo se no c'è last in first out l'IFO quindi vedi i primi pezzi e la terza strada è questa della media ponderata e lui mi fa guarda quella più utilizzata è la media ponderata tu hai un'esperienza cioè tu usi FIFO visto che mi sembra io non lo sto preparato quindi no però in teoria sì usi FIFO perché magari il prezzo ti è raddoppiato non lo so magari vuoi dipendere dalla tua strategia se il prezzo è raddoppiato vuol dire che il prezzo del prodotto è cresciuto quindi tu puoi avere due strategie ma quelli che ho acquistato a prezzo più basso continuo a vendere a prezzo più basso così mi libero un po' di materiale oppure no il prezzo è salito e quindi riaggiorno il prezzo a prezzo più alto anche di quelli che ho acquistato a prezzo più basso a seconda se vuoi scaricarti di magazzino o se vuoi scaricarti di utili e quindi in base alla tua strategia è meglio uno meglio l'altro però l'importante è avere un minimo di costi di gestione cioè sapere che se li ho comprati a 100 con tutti i costi non li vado a vendere a 80 non è sostenibile nel lungo tempo questa è la cosa che io terrei principale poi a fare una gestione così analitica cioè tu devi sapere se il materiale ce l'hai o non ce l'hai questa è la cosa importante perché se ti arriva l'ordine e poi quando vai a consegnarlo o non c'è è brutto ok no vabbè quella è la base sì quello lo facciamo quella è la base poi per il resto Daniele a fine anno va il tuo inventario corretto hai ragione hai ragione cioè il tempo forse è meglio dedicarlo ad altri non è la tua priorità non è il tuo punto critico a quanto mi pare di capire e quindi devi focalizzarti per la tua attività su quello che ti rende di più le vendite curano tutto bravo le vendite curano tutto sì 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 eh dai ci proviamo un po' cioè almeno per avere un po' più di cioè partiamo così poi se troviamo qualche scorciatoia vediamo strada facendo è una di quelle cose mai fatte dove bisogna sporcarsi le mani per capire prima per poi cioè capire e per poi capire come come migliorare il processo vediamo va bene Daniele io passerei passerei a parlare di appuntamenti dal vivo ragazzi cari digi imprenditori che ne dite di incontrarci ci sono un paio di appuntamenti a cui parteciperò Daniele che sta in Olanda ci lancerà e ci dirà tutti i suoi appuntamenti in Olanda Festival del podcasting primo evento allora dal vivo a Milano il 30 di settembre l'idea mia è quella di andare ho già il biglietto e poi abbiamo anche i biglietti scontati per i digi imprenditori Daniele cosa bisogna fare per avere i biglietti scontati dovete utilizzare il link che c'è nelle note dell'episodio avrete uno sconto del 50% sul biglietto grazie al nostro biglietto e quindi cari digi imprenditori se andate al festival del podcasting fateci sapere dai che ci si incontra scambiamo due chiacchiere ci conosciamo e poi l'altro incontro andrò al Marketers World 13-15 ottobre a Rimini cari digi imprenditori chi va al Marketers World fatecelo sapere che ci incontriamo anche lì bene io invece sarò in Italia fine settembre nel weekend al 29 all'1 ma evento dove mi spiace non posso incontrare i digi imprenditori perché il raduno team meeting di WPOK quest'anno sarà a Velletri quindi se volete cercarci siamo a Velletri in una villa con jacuzzi e faremo un weekend non piscina stai 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 raggiucendo dall'amica dal castello con piscina sì sì quest'anno cost redaction la villa con jacuzzi la villa con jacuzzi all'esterno sì i miei collaboratori sono gasatissimi anche perché mi rendo conto che per alcuni di loro che hanno bambini piccoli questo questo è il weekend dell'anno in cui possono lasciare la famiglia a casa con una buona scusa perché possono dire ci devo andare per lavoro quindi sono sono gasatissimi sono due settimane che non parlano d'altro e ok quindi Marco sì eventi eventi dal vivo e un altro un altro evento mastermind Daniele ogni anno lanciamo facciamo i cupido del del mastermind creiamo gruppi di digi imprenditore che vogliono crescere insieme Daniele cos'è un mastermind per quei pochi che non lo conoscono sì un mastermind è un gruppo di persone pari quindi non c'è il super guru non c'è uno più 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 bravo più forte degli altri sia un gruppo di pari dove ci si confronta e si cresce insieme quindi noi creiamo come diceva Marco facciamo il cupido raccogliamo le vostre candidature perché questi sono mastermind pensati per per digi imprenditori e in base all'attività che avete creiamo dei gruppi con una certa affinità di solito creiamo non so il gruppo per consulenti gruppo di team quindi persone che hanno già un'attività avviata con un team da gestire gruppo e-commerce per chi ha un e-commerce gruppo start-up perché all'inizio insomma che ha un po' di gruppi con una certa affinità e vediamo delle guidelines quindi delle regole suggerite in base della nostra esperienza su come si gestisce un mastermind e poi buona fortuna insomma ogni gruppo poi diventa autogestito siamo tutti adulti e quindi noi quello che facciamo è facilitare la creazione di gruppi mastermind perché la cosa difficile dei mastermind insomma è trovarne o trovare persone che vogliono entrare in un gruppo insomma mi ricordo all'inizio di questa avventura di imprenditore non conoscevo nessuno che lavorasse online che facesse qualcosa di simile tutte le persone nel mio network erano quasi tutte erano persone con un lavoro dipendente quindi noi vi aiutiamo a creare un gruppo e poi voi vi gustate il mastermind gruppi che abbiamo creato di digi imprenditori che hanno attività simili quindi chi fa e-commerce è dedicato all'e-commerce chi è solo pre-nor che è da solo c'è un gruppo chi sta avviando un'attività c'è un gruppo di chi sta avviando chi ha già dei team ha un altro gruppo quindi cerchiamo di mettervi insieme di gente che è al vostro stesso livello e bada bim bada bim bada bim tutto gratuitamente lo facciamo quindi non c'è nessun costo per partecipare al mastermind però insomma se avete voglia dovete poi prenderlo seriamente come impegno anche perché comunque vi aiuta il mastermind almeno questa è l'esperienza mia quando sono entrato al mio primo mastermind ha cambiato completamente la vita a parte che ho conosciuto Daniele il mio primo mastermind quindi non sarebbe nato il podcast e poi c'è gente che ti trascina insomma ci si trascina vicenda Daniele nel nostro mastermind originale erano quasi tutti podcaster alla fine siamo diventati podcaster anche noi se non fossimo stati in quel mastermind non l'avremmo fatto io ho questa certezza è vero è vero è vero e cosa vuol dire per parte di un mastermind vuol dire partecipare a una call ogni due settimane questo è l'impegno che viene richiesto e in questa call come dicevamo ci si confronta ci si aiuta quindi ragazzi chi è interessato nelle note all'episodio trovate il link dove candidarvi e se avete già partecipato a dei mastermind negli anni scorsi perché noi ogni anno a settembre lanciamo questa iniziativa potete ricandidarvi se volete continuare cioè se volete cambiare gruppo entrare in un gruppo nuovo il form è nelle note all'episodio bene 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 Daniele intelligenza artificiale oramai parte della della nostra vita oramai tutta la novità sono quelle intelligenze artificiale ho detto che avevo provato chat GPT nella versione pro premium e tutto ho deciso di abbandonare la versione pro perché nelle ultime due settimane non la sto usando fondamentalmente se mi capiterà di doverla di avere la richiesta ovviamente ripartirò con l'abbonamento a Benzina tra quello che ho visto nella versione pro che era interessante c'era il plugin che ti permetteva di fargli vedere i siti quindi linkare un sito e quindi fare lavorare l'intelligenza artificiale su un sito ma questo Bing chat lo fa di default quindi in quel caso posso utilizzare Bing chat per questo scopo l'altra cosa che mi piaceva tantissimo era YouTube poter fare il sommario su YouTube e quindi avere delle breve informazioni su video per vedere se ne vale la pena o qual è quella parte di video molto interessante da vedere in modo da risparmiare tempo o meglio poter vedere nello stesso tempo più video ma anche lì ci sono dei tool che lo fanno gratuitamente specializzati e sono anche più veloci di chat GPT e quindi queste funzioni che servivano a me le posso avere anche in altro modo per cui per il momento ho disattivato l'abbonamento che tra l'altro mi scadeva ieri di chat GPT pro Daniele com'è la tua esperienza con chat GPT aspetta ma il pro è quello che ti dà la versione 4 giusto invece della 3 si ti dà la versione 4 anziché la versione 3 e mezzo della verità io non ho trovato non ho trovato grossissima differenza forse è più veloce cioè invece di aspettare 20 secondi ne aspetti 10 per avere la risposta è quello che fa io non è che ne faccio un uso così che ci sto tutti i giorni però devo dire che è fenomenale cioè io non saprei cioè non capisco come abbia potuto vivere senza chat GPT prima un po' come il navigatore no? che ora ti chiedi come facevi ai tempi a muoverti dal posto al posto e qui è uguale cioè ha fatto delle cose veramente ma anche stamattina dovevo fare una bella lettera bella 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 insomma gli ho messo giù tutti i punti gli ho detto senti convinci l'altra parte in base a questi punti a fare questa azione perfetto una bella traccia 80% già fatto ovviamente risistemato un po' a stile mio cose che altrimenti ci avrei impiegato sicuramente molto più tempo e fatti in modo molto molto meno efficace io con Cia GPT ho avuto una brutta esperienza Marco perché mentre creavo queste formule con Google Sheet non riuscivo a fare la conversione tra una valuta e l'altra prendendo come riferimento una data cioè io voglio fare la conversione prendendo il valore del primo settembre per esempio la data in cui abbiamo fatto l'ordine quindi sono andato su chat GPT e gli ho chiesto come fare mi ha dato delle formule che che non funzionano una formula che mi dava errore ho specificato guarda secondo me perché uso Google Sheet in italiano forse c'è qualcosa di diverso col formato della data ah sì allora prova così ah sì prova cosà mi ha dato tutta una serie di scusami no prova l'ho fatto diversamente nessuna di queste formule qua ha funzionato a un certo punto ha smesso di rispondermi e ci ho riprovato un paio di volte ma non lo so non è riuscito a tirarmi fuori la formula giusta per fare questa cosa sì il brutto di chat GPT che inventa cioè se lui non ha l'informazione se ne inventa e non ti dice lo inventa perché comunque lui inventa tutto per come è programmato quindi anche quando fa i testi se ne inventa poi ha buona probabilità di azzeccare quello che tu vuoi però altrimenti se li invii come quando chiedi le informazioni informazioni stradali in Asia cioè si vergognano a dirti che non lo sanno quindi ti inventano uguale ti mandano a qualche posto che è simile secondo loro è simile poi non è dove vuoi andare tu e poi un'altra cosa legata all'intelligenza artificiale come insomma come si aspettava Help Scout che è il tool che utilizziamo per la gestione dei ticket in POK ha rilasciato un nuovo editor che include funzionalità di intelligenza artificiale che sono che sono cioè tu scrivi il tuo testo e puoi sistemare gli errori grammaticali renderlo più lungo renderlo più corto allungarlo o abbreviarlo questo testo renderlo più amichevole renderlo più professionale oppure tradurlo in un'altra lingua quindi interessante è un approccio cioè in questa funzionalità lavorano sul testo ti aiuta a migliorare il testo che stai scrivendo non va a diciamo a creare una risposta basandosi sulle risposte precedenti o cose di questo tipo quindi non genera una bozza di risposta ma aiuta a migliorare la risposta che che la gente la gente di supporto sta scrivendo è comunque interessante insomma si stanno muovendo ovviamente anche loro bene Daniele allora che cosa ti racconto che cosa ti racconto oh mi dicono io un problema vai 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 guarda una veloce AppSumo io forse due anni fa avevo avevo comprato un tool che si chiamava Low Low Assist che è un tool che ti permette di creare i tool i tool guidati quindi sai i tool classica cosa da SaaS che quando entri la prima volta c'è il tool che ti spiega i vari menu e cosa fare dove cliccare quindi l'ho acquistato Lifetime l'abbiamo configurato per spiegare come funziona il pannello di WPOK e niente era lì tranquillo che faceva il suo lavoro mi arriva l'email d'AppSumo che dice ti abbiamo rimborsato Low dopo due anni perché è stato acquisito da un'altra società che non vuole onorare le licenze Lifetime quindi abbiamo deciso di rimborsarti secondo me è una cosa molto molto seria da parte di AppSumo anche dopo tutto questo tempo hanno comunque deciso che insomma hanno venduto una cosa Lifetime che in realtà non sarà più Lifetime quindi hanno deciso di fare il rimborso immediato della spesa dall'altra parte è peccato nel senso un tool che avevamo impostato che andava bene tutto ma se questi cambiano bisognerà rimetterci le mani trovare un'alternativa ricreare questo tool in altro modo invece io ho avuto un problema una volta su un tool uno di quei tool che tu gli metti test e fanno text to speech e l'avevo preso poi l'avevo dimenticato poi dopo un annetto ho detto ah ma c'avevo quel fammi vedere quel tool mi sono logato non mi si logava più ho scritto l'assistenza del software non mi hanno mai risposto poi ho detto vabbè dai ho pagato 37 dollari chi se ne frega c'è più il tempo per stare lì a discutere che non il valore del tool mi è successo non mi hanno rimborsato però ahiaiai magari se scrivi a Sumo ti rimborsano sì può essere ma va bene import talmente basso ok scusate Daniele invece scusi ho un problema che non capisco un happy problem ci sono delle campagne o meglio dei siti che stanno stranamente sovraperformando da un lato ho detto ah magari è l'estate i concorrenti non lo so però anche dei siti dove io ho chiuso le campagne quindi non facevo più campagne advertising improvvisamente d'estate arrivavano diverse richieste d'offerta tutte belle mirate belle cioè non perdite di tempo e mi è successo già con con due siti che io avevo più o meno sono quelli fatti nel tempo un po' abbandonati perché non sono quelli dove ho il la revenue maggiore ma stranamente hanno incominciato a performare di nuovo adesso stiamo vedendo con il marketer di capire che cosa è successo sembra che sia aumentato il traffico organico nonostante noi non avessimo fatto assolutamente niente di modifica di miglioramento SEO o qualcosa del genere strano però no perché uno capisse qual è il motivo ma cerca di implementarlo anche altrove però affidarsi a a google per vivere cioè la parte bella ma vuol dire che qualcuno c'è anche la parte si trova la parte cattiva gli performa meno e ha e ha meno richieste così come ieri ma 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 ha chiamato uno su per presentazione animata che io ho abbandonato completamente dicendo no io ho visto siete bravissimi c'è scritto tutto eh voglio procedere con voi cioè non ha voluto sapere niente ha detto ditemi come si fa a partire subito che voglio fare l'ordine ah come io ci ho lavorato una vita per arrivare a sto livello no bene che qualcuno si sia svegliato però cos'ha detto Marco hai venduto o no? eh non lo so adesso ci ho parlato ieri sera gli ho mandato tutta gli ho mandato il form per compilare ah ok per fare il video per pagare insomma adesso non ha pagato però ma no ma vuole sapere di più no 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 ma è tutto chiaro nella documentazione che c'era online è tutto chiaro ho già capito come funziona no 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 mi piace voglio lavorare con voi adesso non so se è un bene o un male rimettersi a fare video animazioni però vediamo che cosa che cosa ne verrà fuori obiettivi obiettivi hai altre cose da aggiungere Daniele perché io gli obiettivi non li ho preparati quindi allora mentre li prepari no c'era il discorso della vendita vendita all'ingrosso e semplicemente che anche qui un plugin mi mi permette di aggiungere tutte le funzionalità che servono si chiama wholesale suite e quello che facciamo è una pagina che presenta il nostro il nostro il nostro il nostro programma wholesale ci si candida cioè ci si candida si manda una richiesta di un form per ottenere un account da rivenditori una volta che si ha l'account da rivenditori c'è una pagina con una tabella dove ci sono i prodotti per rivenditori prezzo per rivenditori e ordine minimo quindi ti permette di 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 presentare i prodotti con una semplice tabella e appunto prezzi per i venditori quantità per i venditori poi i venditori essendo vendita business to business e non business to consumer non ci sono le le regole sui su per la protezione dei consumatori che ci sono in Europa quindi si possono applicare anche cose diverse tipo far pagare degli extra se utilizzi carta di credito payment gateway di pagamento diversi e poi con all'ingrosso le spese di spedizione le facciamo pagare separatamente dall'ordine cioè prima facciamo l'ordine poi una volta che abbiamo i prodotti e mandiamo le spese di spedizione cosa che ho visto quasi tutti i nostri fornitori fanno così partiamo così anche noi poi vedremo se se integrare in qualche modo anche le spese di spedizione però si plugin super flessibile uno di quei plugin molto maturi dove tutte le opzioni che ti possono venire in mente le trovi anzi guardando le opzioni ti vengono idee perché vedi ah si può far questo se non è una brutta idea e quindi partiremo con questo nuovo processo per la vendita rivenditori per la vendita altri altri negozi perché adesso è molto molto manuale ovviamente non facendo passare tutti dal dal sito bene Daniele allora io che sto diventando un video content creator devo sicuramente caricare il video su youtube e far partire tutti i social per associati a questi video a questo video questo è l'obiettivo numero uno e l'obiettivo numero due è quello di iniziare e fare almeno un terzo del corso sullo scraping Daniele voglio dedicarmi allo scraping capire se posso scrapare qualcosa e come poterlo utilizzare proprio vantaggio nella propria azienda ok e io come obiettivo rimetto quello di registrare due video sui plug-in per WooCommerce che mi è rimasto qui e poi come secondo obiettivo hanno in WPOK hanno iniziato due nuovi collaboratori questa settimana e quindi seguirli molto attentamente nelle prime due settimane per la parte di affiancamento ok perfetto Daniele non ci resta che salutare tutti salutare gli ascoltatori e a tra due settimane ok a tra due settimane grazie Marco ciao 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 ricordati di iscriverti al gruppo telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate lascia una recensione su apple podcast spreaker o le altre piattaforme di podcast facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate ringraziamo il nostro editore you media web se vuoi contattarci vai su digi imprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio a presto ciao